Calci di rigore a essere un'ammerda vecchia, momento di 1-1 però con questo rigore sbagliato dalla Roma a merda si portano un rigore sopra le vecchie glorie, vediamo ancora Maurizio Muzzica C'è Formisano sul calcio di rigore, parte Formisano, tiro e dei gol di Formisano Attenzione, vecchie glorie qui C'è ora Fabio Crolla a battere il calcio di rigore, che corrono cariche, cerca di far si tire, parte Crolla e dei gol C'è ora D'Alessio a battere il calcio di rigore D'Alessio tiro e gol Non si sa ora chi deve andare a battere il calcio di rigore Attenzione Si aspetta il fischio, tiro fuori Deve segnare lui Attenzione se segna questo attaccante delle vecchie glorie, si aggiudicano il passaggio e le vecchie glorie passano Roma a merda ora è fuori Andiamo a Fabio Crolla